Questo è il quadricipite. E sotto da questa parte, l'adduttore. L'articolazione del ginocchio, la rotola, il femore. Ma perché invece di dirmi tutti questi nomi di cui non me ne frega un cazzo, non mi dici qualcosa di erotico? Vuoi toccarmi il culo? Cosa? Il culo, il culo. Me lo guardi sempre. Sì, è diventato un'ossessione ormai. Tu me lo vuoi toccare. La stragalo, scafoide, cuboide, tarso. Qual è schifoide? Scafoide. È questo. E ce l'abbiamo tutti. Adesso concentrati e spingi in avanti. Da solo. Vai. Funziona? Cazzo, funziona? Tutto cazzo. Funziona?